Insieme per rendere sempre più concreto l'impegno a tutela dei diritti di bambini e adolescenti. La Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Ilenia Serra, e il Presidente dell'Associazione AIF Infanzia e Famiglia, Tommaso Varaldo, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa allo scopo di creare una sinergia per rafforzare il pieno rispetto dei diritti del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Porre in essere delle azioni a tutela dei bambini e dei ragazzi della nostra regione e a conferma di quanto sia importante costruire e rafforzare una rete, una sinergia, una collaborazione tra le istituzioni e il mondo dell'associazionismo. Noi con l'impegno dei nostri volontari cerchiamo di fare questo, sostenere la famiglia, sostenere la natalità. L'infanzia e l'adolescenza devono essere tutelate al primo posto. Per questo anche oggi sottoscriviamo un protocollo d'intesa con il Garante Regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per essere sempre più presenti sul territorio a tutela di quei diritti dei soggetti più vulnerabili che spesso non hanno voce per chiedere aiuto.